Questa è la recensione che è stata messa qualche mese fa per evitare che i cittadini possano andare sopra la rotonda che come saprete è in ristrutturazione perenne ormai dal 2016 però guardate si trova sempre la via per poter accedere qualcuno evidentemente si è stufato si è arrabbiato di questa situazione di fermo amministrativo e di qualsiasi genere di operazione e pertanto ha riaperto seppure così la rotonda che come vedete è rimasta nella stessa identica maniera in cui l'avevamo lasciata cioè senza alcun tipo di intervento ancora ad oggi nonostante la chiusura non è stato fatto nulla si aspetta sempre questo famoso progetto di restyling ma a tutt'oggi purtroppo non è arrivato quel che invece è arrivata oggi è la notizia appunto che qualche scalmanato evidentemente stanco della situazione ha purtroppo devastato la paratia di recensione che appunto era garanzia affinché i cittadini non potessero più venire per fare lavori certo direte quali lavori però insomma non si fa è una cosa che è inaccettabile distruggere è sempre una cosa inaccettabile grazie a tutti